C'è qualcuno? Allora intanto con queste giornate e con questo meteo verrebbe decisamente più spontaneo dire Ragazzi weekendino al mare piuttosto che invece pensare di essere come siamo nel pieno dell'inverno Comunque così gira, così è il meteo un po' in tutte le regioni d'Italia Di fatto è il 29 di dicembre, sono le 12.45 e almeno a Carpi fuori fanno 18 gradi centigradi Eccoci qua, salve a tutti amici sportivi, ben trovati Questa è l'ultima puntata del 2024 Andiamo a fare un sincro con tutta l'attrezzatura Verifichiamo che tutto funzioni Pare che sia tutto in regola Quindi ci siamo, siamo assolutamente perfetti Quindi posso immaginare che ci sia un grande affare lato vostro Chi è fra i 19 milioni di italiani che stanno facendo giustamente le vacanze Chi potrebbe essere in discesa, in presa di spigolo Chi invece potrebbe essere nel pieno della propria Z2 E farsi un bellissimo allenamento con una giornata in tutta Italia Dove splende il sole Chi invece, magari giustamente a quest'ora dice Aspetta un attimo che sono con i piedi sotto la tavola Salutiamo ovviamente quelli che sono gli amici Che invece sono impegnati lavorativamente parlando Penso a quelli che sono impegnati nelle faccende lavorative dei ristoranti I turnisti, gli infermieri, i dottori, i vigili del fuoco La polizia municipale, le forze dell'ordine Insomma tutti quelli che non hanno proprio delle calendari istituzionali Dove per le vacanze di Natale si chiude baracca Burattini e si va in ferie Ci sono quelli che tutelano, quelli che appunto fanno villeggiatura E serve un approccio anche di questo tipo Chi lavora per garantire la sicurezza, il divertimento di chi ha la possibilità di andare in ferie Quindi oggi immagino sia una puntata un attimino particolare Vedremo se ci sono degli amici collegati Quindi intanto saluto un caro amico che è un po' di tempo che non mi sembrava fosse all'appello Saluto Alberto Gnocchi Ciao Alberto Spero tu stia assolutamente bene Come saluto anche il buon Tommaso Olivotto E tutti gli amici che in proiezione in questa puntata si collegheranno Allora siamo arrivati praticamente alla fine di questo 2023 Io mi auguro ovviamente che sia stato anzitutto uno Un anno pieno di salute Che sia stato privo di qualsiasi tipo di infortunio O di qualcosa che abbia avuto a che fare con la salute Quindi in primis questo Che sia stato un anno divertente, felice Questo è il mio secondo auspicio per voi Che possa essere appunto stato in questa maniera E che se vogliamo entrare nella materia che ci compete Sia stato un anno ricco di chilometraggio Di slivello Partecipazione alle uscite con gli amici O alle gare Che abbiate potuto migliorare i vostri com Che abbiate potuto migliorare la posizione in classifica nel brevetto X Che abbiate potuto superare il vostro acerrimo nemico Y E che abbiate fatto tutto quello che nel vostro cassetto dei desideri Sia stato posizionato nel 2023 Ma siccome noi come ciclamatori non abbiamo solamente i numeri Come per i ciclisti professionisti Che rappresentano la felicità della nostra vita sportiva Ho pensato bene di fare in questa puntata Un riassunto che va anche un po' oltre le maglie Le righe della nostra prospettiva sportiva E quindi che non riguardino solamente appunto Chilometri di slivello Posizioni in classifica e quant'altro Ma altri aspetti che credo per noi ciclamatori Poi di riflesso se sono trattati Se sono vissuti con garbo E con il giusto rilievo Che dare a questi punti che andremo ad esaminare Possano appunto di riflesso Trasmettersi nella nostra passione Dandoci un impulso sicuramente migliore E vedrete che se si trattano con cura Tutti questi punti che oggi ho portato in trasmissione Sono delle cose che possono darci sicuramente Qualcosa di estremamente positivo Intanto il gruppo si sta gradualmente infoltendo Saluto anche il carissimo Corrado Castagnari So che per tradizione loro durante la settimana La pausa pranzo la fanno insieme al sottoscritto E questo mi riempie veramente di gioia E quindi insomma procediamo con questi punti Che non ho voluto assolutamente dimenticare Sono circa una decina Ci ho ragionato sopra Perché appunto possono aprire uno spiraglio di attenzione Qualora magari alcuni di questi punti Ovviamente in tutti questi punti Ognuno di noi ci è passato Bisogna vedere nella misura in cui Si dà più o meno importanza A ciascuno di questi appunto Segmenti che andremo a toccare oggi Allora in primis siamo ciclisti amatori Il primo punto è quest'anno Io ti faccio delle domande Le butto lì sul tavolo E poi con calma Magari tu se te le vuoi anche riportare E riscrivere Fare i tuoi appunti Di questi dieci Che andremo a toccare Poi successivamente ci potrai con calma Ragionare sopra E trarre tutte le tue conclusioni Il primo su tutti Hai nel 2023 raggiunto un obiettivo sportivo Ovviamente ciclisticamente parlando Che non significa per forza Avere vinto una corsa O avere scalato una classifica Sarebbe anche un obiettivo sportivo Raggiungere un peso forma Il fatto di dire Ho partecipato una gran fondo Che prima era assolutamente impensabile Per me e per il mio livello di allenamento Ecco inteso come obiettivo sportivo Qualsiasi cosa Che ti abbia dato una soddisfazione Fai focus su quella Perché potrebbe essere poi Il punto di partenza Per il 2024 Da lì in poi Cerca di darti degli obiettivi Che possano essere simili A quello che hai raggiunto Un po' Maggiori Un po' più Insomma Sostanziosi Ma che possano essere appunto Una sfida Per la prossima stagione Dal punto di vista lavorativo Hai raggiunto gli obiettivi Che ti sei posto Per il 2023 Adesso non stiamo qui Ovviamente a scendere Nelle maglie del lavoro Che ognuno di noi Ovviamente ha Durante la settimana Nella speranza che tutti Abbiano un posto di lavoro Magari sei riuscito A passare di categoria Magari sei riuscito A cambiare un lavoro Che prima Non ti dava Le soddisfazioni Che desideravi Hai partecipato A un lavoro E l'obiettivo Era Arrivare a quel Determinato risultato Ecco Ci sei riuscito Ci sei arrivato A metà Ci sei arrivato A tre quarti Potrebbe essere il punto Dove mettere E per iniziare Poi da quello A puntare L'obiettivo Per il 2024 Anche dal punto Di vista lavorativo Ovviamente Anzi Probabilmente Dopo La famiglia Penso che sia Uno dei punti Chiave Per ciascuno Di noi Allora Hai vissuto Delle Esperienze Significative Che potrebbero essere Appunto anche Dal punto di vista Lavorativo O se hai fatto Un viaggio Che ti ha dato In cambio Un'esperienza Che mai prima Avevi fatto Mai prima Avevi provato E te la porti Con te Nel cassetto Dei ricordi Come uno Dei momenti Più significativi Dei momenti Più belli Di questo 2023 A volte Girarsi indietro Prendersi un attimo Di pausa Fare un Rewind E rivivere Un po' Delle storie Che si sono vissute In questo 2023 Penso che non faccia Assolutamente Male Anzi Penso che Dia Sicuramente Qualcosa in più Alla tua Anima Come gioia E Rivedersi In un'esperienza Che ti auguro Tu non abbia Mai fatto Prima d'ora E che sia stata Un'esperienza Piuttosto significativa Credo Che possa essere Una cosa Verso la quale Riportarsi Col pensiero Ritornare Con le immagini E con le emozioni Per rivivere Mi auguro Uno di questi momenti Una di queste Nuove esperienze Che appunto Spero ci siano state Nel tuo 2023 Hai appreso Qualcosa Di importante Nella tua Carriera Lavorativa Attraverso Le tue Amicizie O nello sport Hai intrapreso Qualcosa Che prima Non avevi mai Affrontato E questo Ti ha Fortemente Gratificato Vai A vedere Se C'è stato Qualcosa Che magari Così Un po' Preso Dalle cose Che ci sono Ogni giorno Dalla vita Frenetica Che facciamo A volte Ci dimentichiamo Appunto Dei passaggi Che sono stati Fra i più Significativi E più rappresentativi Di questa stagione Ti invito A fare Appunto Anche in questo Caso Un rewind E andare A vedere Se hai Partecipato Se ti sono Capitate Delle cose Dei progetti Verso i quali Magari Sei ancora Coinvolto E la cosa Ti ha preso In maniera Veramente Eclatante Te lo auguro Perché Quando si intraprende Un viaggio Di qualsiasi tipo E ci si butta A capofitto In questa esperienza È qualcosa Di estremamente Coinvolgente Di qualcosa Di estremamente Immersivo Che ne vale la pena Buttarci Si dentro A capofitto A volte Uno magari Preso Da queste nuove Situazioni Magari Si pone La domanda Ma perché Devo perdere Tanto tempo Per questo Quando magari Invece Puoi Attraverso Tutte queste ore Che dedichi A questa Nuova Nuovo Coinvolgimento Ti possono Dare Qualcosa Di veramente Molto significativo Mi auguro Che appunto Ci sia stata Anche Una situazione Di questo Di questo Genere Siamo al punto Numero 5 Punto più Punto meno Non è che questa È una classifica Per importanza L'uno vale Di più Del 10 Li abbiamo Messi giù Così Li ho messi Giù così A sentimento E sono parte Integrante Come Immagino Della mia Modestissima vita Anche Della vita Di altre persone Che appunto Capita Di Entrare In queste Situazioni Altro punto Molto importante Che Non è Trascurabile Non è Una domanda Banale Ti sei sempre Curato Della tua Salute A volte Si tende Sempre Specie Quando ci sono Delle cose Un po' Fastidiose A procrastinare L'esame Di un tipo L'esame Di un altro E qui Io Francamente Per esperienza Personale Mi sento Proprio Di lanciare Questo messaggio Se c'è Una cosa Importante È quella Della Prevenzione Che sia Per un brufolo O per qualsiasi Altra cosa Non è Perdere Tempo Buttare Denaro Investire Sulla Prevenzione Per la Tua Salute È Una Delle cose Più Importanti Anche Questa Potrebbe Essere Una cosa Che non Centra Nulla Col Ciclismo Qui Siamo In una Piattaforma Di ciclisti Amatori Ma Se Non Abbiamo La giusta Prevenzione E quindi Magari Lasciamo Correre Qualcosa Di Nascosto Di Sotterraneo Che Poi Si Trasforma In qualcosa Di Un po' Più Impegnativo Da Trattare Ne va Della Nostra Salute E se In cima A tutto Non abbiamo La salute Poi Non possiamo Affrontare Al meglio Il nostro Sport Non possiamo Affrontare Al meglio La routine Di tutti I giorni Della nostra Famiglia Goderci La nostra Famiglia Eccetera Eccetera Quindi Prenditi Cura Della tua Salute Io Credo Che Ovviamente Tutti Quanti Abbiano Una Buona Stima Della Propria Salute Ma A volte Purtroppo Mi capita Di sentire Un po' Per Timore Un po' Per Pigrizia A volte Si trascura Il fatto Di fare Un esame Di controllare Una cosa E quant'altro Mi raccomando Se hai Peccato In questa cosa Nel 2023 Non farlo Nel 2024 Consiglio Personale Prevenzione È una cosa Molto importante Ciao Davide Pelà Che si è collegato Anche lui Come Alberto Paini E Checo Fra Che scrive Anche un messaggio Ciao a tutti Ciao Fabrizio Un grandissimo Augurio Di Buona E qui Abbiamo Il Fazzesco Il prossimo anno Giuro che Prendo Un Dispositivo Decisamente Diverso Da questo Mi devo Organizzare 2024 Ragazzi Almeno Per quanto Riguarda Il sottoscritto Sarà Un anno Almeno Da calendario Di un sacco Di eventi Importanti Almeno Per il Sottoscritto Non è il momento Ancora per Dichiarare Tutto quanto Ma Piano piano Visto il livello Di confidenza Che abbiamo E le cose Che fino ad ora Ci siamo sempre Scambiati E sempre Detti Il prossimo anno Ho una serie Di eventi Che Se semplicemente Vanno in porto Sono qualcosa Di veramente Molto Gratificante E quindi Mi auguro Che questi Possano tutti Avvenire Senza troppe Interferenze Ma il 2024 Si presume Essere un anno Piuttosto Stimolante Diciamo così Ok Allora Nel 2023 Anche questa È una Prospettiva Interessante Da analizzare Hai preso Delle Decisioni Importanti Silenzio In sala Magari uno fa L'inventario Aspetta un po' Ti gratti in testa Ti guardi un po' Intorno Magari se c'è qualcuno Di fianco a te Ti consulti Con lui Dici Ah sì Quella cosa l'ha Oppure con te stesso Cavolo ho fatto Quest'anno di importante Sicuramente Qualcosa di importante Lo avrai fatto Vallo Un attimino A scovare A ripescare Gratificati Per la cosa Importante Che hai fatto E poniti Magari Su quella cosa Se è possibile Estenderla In una maniera Maggiorativa Amplificativa E insomma Qualcosa che si possa Amplificare Punta Su di quella Su una cosa Importante Che hai realizzato Qualcosa Come obiettivo Per il prossimo Anno Un'altra cosa Bellissima Da ricordare Di questo 2023 Hai Conosciuto Delle persone Che sono state Significative Ci sono tante Conoscenze Che si fanno Durante l'anno Vuoi Semplicemente Perché vai a prendere Un caffè Al bar E per qualsiasi Motivo Si parla Di calcio Si parla Di politica Si parla Di salute Purtroppo Si parla Di eventi Che succedono Quotidianamente E ti capita Di scambiare Qualche parola Con delle persone Nuove Nuovi Conoscenti Con i quali Appunto Hai uno scambio Di conversazione Abbastanza superficiale Leggero Immediato E quindi Queste magari Sono delle conoscenze Che bisogna Certamente Tenere conto Ma magari Non sono persone Con le quali Hai approfondito O hai Intrapreso Con loro Delle questioni Un po' più Importanti Potrebbero essere Legate Ad una nuova Passione Potrebbero essere Legate A una nuova Situazione Lavorativa O amici Di famiglia Che sono Appunto Diventati Delle nuove Conoscenze Insomma Hai avuto In questo 2003 Persone Con le quali Hai Intrapreso Una nuova Amicizia Non soltanto Dai social Ma hai avuto La possibilità Di scambiare Delle parole In presenza Di persona Hai potuto Magari Fare Con Questa Persona Delle attività Sportive Insomma Mi auguro Che ci siano state Nella lista Dei tuoi amici Dei tuoi amici Delle nuove Persone Perché sono le persone Poi effettivamente Che ti danno Quel qualcosa in più Di aggiuntivo Al bello Di stare Ancora per tante volte Nel 2024 Il fatto Di poter Conoscere Delle nuove Persone E fare Delle nuove Amicizie Credo Che sia Una cosa Veramente Molto Ma molto Importante Allora Un altro punto Il numero 8 Hai Mantenuto O Trovato Delle nuove Passioni Ok Ogni anno Ci si dice Sempre Quest'anno Voglio Intraprendere Due punti A capo Che sia Una collezione Di francobolli O Potenziare La tua Collezione Di farfalle O Avere Semplicemente Mantenuto Lo sport O la passione Hobby Che hai Iniziato Quest'anno O lo scorso Anno È qualcosa Capisco Di abbastanza Complicato Perché già Di per sé Una vita Lavorativa Ci occupa In 24 ore Abbastanza Spazio La famiglia I figli Ne occupano In maniera Piuttosto Rilevante E poi Abbiamo La nostra Passione Che è un Conto Se la facciamo Sui rulli Ci occupa Un'ora E mezza Un conto E se la facciamo Su strada Quando andiamo Su strada Ed è lì Dove puntiamo Ad andare E per un certo Periodo di tempo Quando andiamo Su strada Potrebbero essere Anche uscite Da due Tre Quattro Cinque ore Meravigliose Siamo immersi Nella nostra Passione Però Se ci metti Otti ore di lavoro Tre Quattro ore In bicicletta Un po' Di affari Di famiglia E quant'altro Per la passione Il tempo A disposizione Un hobby Alternativo A questo Diventa Abbastanza Restrittivo Ebbene Io personalmente L'ho già Ufficializzato Due Tre anni fa Non è più Un hobby Come era Tre anni Circa fa Che mi aveva Attratto Per alcune cose Intrise In questa disciplina Io mi sono Io mi sono Super appassionato Al gioco Delle bocce Le bocce A tre Declinazioni Ci sono Le bocce Di raffa Che sono I bocciodromi O le bocciofile Quelle piste Lunghe 28 metri Poi c'è Le bocce Di volo Che è un'altra disciplina E la petanche Che è un'altra disciplina Diffusissima In paesi Tipo la Francia Che addirittura È uno sport nazionale Ecco Allora Io mi ci sono Appassionato Ero curioso Circa tre Quattro anni fa Da curiosità È diventato Proprio Il mio Sport Alternativo Alla bicicletta Ci dedico Veramente Tutto quello Che è possibile Dedicarci Incastrato Nella Giornata Lavorativa Familiare E quant'altro Io purtroppo Non so se per fortuna O per sfortuna Sono fatto così Se una cosa La battezzo Mi piace Uddio Non diventa più Uno sfogo Un divertimento La prendi così Come viene Viene Diventa proprio Qualcosa di Assolutamente Da fare Nel massimo Della Sua Interpretazione E per qualsiasi Cosa uno faccia Che giochi A bocce O che tu vada A fare ciclismo O qualsiasi Altra cosa Se la vuoi fare Bene Ovviamente Gli devi Dedicare Del tempo Della costanza E ovviamente Questo richiede Un impegno Piuttosto Importante Mi auguro Che anche tu Al di là Del ciclismo Del ciclismo Del tuo lavoro Eccetera Eccetera Abbia coltivato Una passione Alternativa Che ti dia Quel momento Di svago Di leggerezza Che hanno Appunto Le passioni Alternative Io mi ero Mi ero prefissato Per quest'anno Di fare Uno sport Nuovo Quest'anno Non ci sono riuscito Per una serie di motivi Ad inserirlo Ed è stato Probabilmente Anche meglio così Perché per questa disciplina Occorre Veramente Parecchio tempo E in estrema coerenza Ho detto Per quest'anno Tutto quel tempo Non ce l'ho A disposizione Spero di averlo Nel 2024 Avevo puntato Uno sport alternativo Che mi piace Da impazzire Ma Per il quale Serve Un determinato periodo Di tecnica Per impararlo Per non farti male Perché È estremamente Pericoloso Dopo il quale Probabilmente Forse ci si comincia Anche un po' Ad appassionare Di più A divertire di più Sto parlando Del crossfit Che per adesso È parcheggiato Lì Certo Che non c'entra nulla Sono due estremi Le bocce Che richiedono Una fortissima Concentrazione Mentale E il crossfit Che richiede Una fortissima Un fortissimo Impegno Fisico E muscolare Sono due cose Completamente diverse Ma Il 2024 Chissà Se non Dia la possibilità Di intraprendere Questa Nuova Serie Di hobby Da mettere Nel cassetto Di noi sportivi Ciao Giovanni Frigoli Buone Buone feste Anche a te Siamo arrivati Alla numero 8 La numero 9 Interessante Carina Allora Qual è stato Nel 2023 Il tuo Impatto Con la tecnologia Ci hai Litigato Ti sei Incuriosito Ti sei Appassionato O proprio Ti sei Completamente Estraniato Da questa Che Diciamolo Ci ha Letteralmente Coinvolto Possiamo Immaginare Una Vita Io Sinceramente Ragazzi Me la sono Completamente Dimenticata La vita Di prima Dei cellulari Quasi È passato Poco tempo Perché L'era Dei social Credo Che sia Scattata Nel 2014 2015 Prima C'era Sì Ma in forma Decisamente Più Leggera E adesso Lo sappiamo tutti Non è una novità Non sono io A dirvelo La quotidianità È veramente Molto Ma molto Associata Ai social Media Che sia Facebook Che sia TikTok Che sia Instagram Che sia Twitter Che sia Qualsiasi Altro Social Media Ma una Buona Parte Del nostro Tempo Con questa Nuova Tecnologia È Indubbio È Indiscutibile Che lo Si trascorra E allora La domanda È Sei Stato Appunto Preso In che Modo In che Modo Sta Impattando Con te La tecnologia E pensare Forse se lo diciamo Se lo dico A mia figlia Forse non se ne rende Nemmeno conto A 22 anni Mia figlia Di come Possa essere Un mondo Senza tecnologia Noi Di fronte a me Immagino Suppongo Ce ne siano Alcuni Che una volta Le telefonate Le facevano Ve lo ricordate Con quel telefono Con Il dittino Indice Che mettevi Dentro Ed era una Telefonata Tra l'altro Sotto controllo Dei tuoi Geditori Perché dopo Cinque Minuti Abbiamo Finito Di chiamare Ok Era veramente Un mondo Completamente Diverso Non c'era bisogno Di dare la posizione Di dove Si è Istantaneamente Anche se è una cosa Assolutamente Utile E che può Salvare Delle vite Ma una volta Quando tu uscivi In bicicletta Al massimo In tasca Ti mettevi Due Tre mila lire Per fermarti O qualche gettone Telefonico Qualora Distruggessi La bicicletta Vieni Mi a prendere E andavi Dentro A una cabina Che ormai Le cabine Telefoniche Penso che siano Totalmente E completamente Scomparse Dalla Circolazione Penso un po' Dove siamo andati a finire Con questa domanda Legata Il tuo Impatto Con la tecnologia E Poi alla fine L'ultima Considerazione Da fare In questa cosa Così Abbastanza Appunto Leggera Che abbiamo Voluto Portare Oggi Come ultima Puntata Del 2023 È Ti sei Concesso In questo Anno Dei momenti Di relax Dei momenti Di pausa Ti sei preso Del tempo Per te Stai facendo L'inventario Stai ragionando Se c'è stato Qualche momento Tutto Tuo Libero Da ogni Impegno Sportivo Familiare Lavorativo Prestativo Tecnologico Eccetera Eccetera Un momento Tutto Tuo Un relax Completo E totale Forse Forse Questi piccoli Passaggi Io non so Se tu nella tua vita Hai la possibilità Di essere In solitaria Durante il giorno In solitaria Senza nessuno Vicino Che siano Colleghi di lavoro Titolari Titolari O in un bar Tu E magari La nostra Meravigliosa Bicicletta Magari Immersi In Una Meravigliosa Collina Soleggiata Senza Traffico Noi La nostra Bicicletta Immersi Nella natura Ecco Anche se È un momento Sportivo Magari Slegato Da ogni Prestazione Da ogni Numero Che possa essere Di slivello Chilometraggio O meno Un'esperienza Immersiva Nella Natura Noi E la nostra Bicicletta O addirittura Anche semplicemente Seduto Su un sasso A guardare L'orizzonte Io non so Se ti è capitato Di avere Uno di questi momenti Ma penso che In un anno Uno Se ne possa ricavare Ben più di uno Perché sono Momenti Veramente Di grande Valore Mi sento Di dire così Bene ragazzi Allora E dopo Tutto Questo Tutta questa Playlist Di cose Che abbiamo Portato Nella trasmissione Di oggi Magari Ti invito A ritornare Indietro E a vedere Ciascuno Di questi punti E prestare Un po' Di attenzione Perché poi Così banali Questi punti Onestamente Non lo sono Meritano Sicuramente Un po' Di considerazione Siamo arrivati Alla fine del 2024 Alla fine del 2023 Io vi auguro Di trascorrere Questi giorni In totale Tranquillità Che possiate Essere Con le persone Con cui Desiderate Essere Di fare Le cose Che vorreste Fare Da una Semplicissima Passeggiata Appunto Come dicevamo Prima A mettersi Seduti E amare Il dolce Far niente Che anche Questa È una pratica Molto rara Nella vita Moderna Insomma Io vi auguro Il meglio Che possiate Desiderare Noi ci vediamo La prossima settimana E la prossima settimana Saremo Già Nel 2024 Quindi magari Ci sarà L'occasione Per Scambiarci Un po' Di queste Riflessioni Che abbiamo Fatto In questa puntata Se ne avete Voglia Appunto Di dare Un segnale Di dare Una vostra Appunto Puntualizzazione Su qualcuno Dei punti Che abbiamo Trattato Sarebbe Molto interessante Molto carino E molto piacevole Ragazzi Non mi rimane Altro Che dirvi Buon Fine Anno E soprattutto Un meraviglioso 2024 Ciao a tutti Alla prossima Settimana Gas Grazie Ok Grazie Grazie a tutti